Certo, Fini adesso potrà dirsi davvero soddisfatto. Allora, ricapitolando, è riuscito prima, a partire dal 2003, a distruggere una comunità intera con le sue continue esternazioni, i cosiddetti strappi, dal fascismo malassoluto fino al voto agli immigrati per passare alle posizioni sulla bioetica. Posizioni assolutamente in contrasto non solo con ciò che lui andava dicendo fino al giorno prima, ma con il comune sentire di tutta la base del partito. Io ricordo perfettamente quei giorni, giorni in cui eravamo costretti ad utilizzare qualsiasi stratagemma per giustificare ai nostri elettori, alla gente che ci fermava per strada, insomma, per giustificare cosa stesse facendo il nostro leader, il nostro capo, quello che noi continuavamo a ritenere come l'unico in grado di prendere in mano le redini in questo paese e di diventare il futuro Presidente del Consiglio dopo Silvio Berlusconi. Quindi gli strappi, dopodiché si è arrivati nel 2007 con un partito lacerato anche dalle logiche correntizie che si erano resi assolutamente stenuanti al suo interno. Arriviamo al 2007, anno in cui cominciarono letteralmente a volare gli stracci con Berlusconi. Ricordiamo tutti, benissimo, frasi come quella dell'Assemblea nazionale in cui Fini disse che Berlusconi era le comiche finali o altrimenti con la puntata di Matrix in cui Fini disse a telecamere spente stavolta ho picchiato come un fabbro contro Berlusconi. Io in quel momento lo sostenevo Fini perché pensavo che fosse maturo per prendere in mano le redini del gioco, per farlo in nome di un partito alleanza nazionale che fino a quel momento aveva incarnato un'idea di destra sana seppur anacquata parzialmente dagli effetti provocati da ciò che vi ho raccontato in precedenza. Salvo poi, insomma, dopo aver dichiarato in tutte le sasse che mai sarebbe entrato con alleanza nazionale, mai avrebbe sciolto alleanza nazionale nel Popolo delle Libertà, bene, un giorno senza dire nulla a nessuno, si trovò con Berlusconi e la sera fece tranquillamente una dichiarazione in cui disse che alleanza nazionale non esisteva più e che si sarebbe celebrato il suo funerale per sancirne lo scioglimento nel Popolo delle Libertà. Popolo delle Libertà è un progetto nel quale abbiamo voluto credere, non è che noi siamo entrati nel Popolo delle Libertà senza essere convinti che in quel momento potesse essere la soluzione adatta al cambiamento. Le nostre perplessità si misuravano nella modalità in cui il nostro capo ha deciso di entrare, di accedere a quel tipo di progetto e, insomma, oggettivamente dalla mancata coinvolgimento della base nel processo costituente del PDL che di fatto non è mai esistito. Noi dobbiamo considerare che il PDL è nato da un congresso che è stato una kermess, ovvero senza una reale partecipazione da parte dei delegati, ma io questo posso anche capirlo perché sarebbe risultato davvero molto difficile e molto lungo come processo quello di coinvolgere per intero la base in questo tipo di processo. È stato giusto che una classe dirigente abbia dato le sue linee guida, ma all'interno di quelle linee guida si sarebbe dovuto poi, una volta vinte le elezioni nazionali, una volta archiviate le europee e le regionali, si sarebbe dovuto partire dai congressi comunali, quelli provinciali per poi arrivare a quelli delle regioni, per coinvolgere la base in un progetto fondativo del PDL, fondativo non dal punto di vista delle gerarchie piuttosto che delle decisioni in merito alla gestione del potere, chiamiamolo tra virgolette. No signore, si doveva aprire, siamo ancora in tempo secondo me ad aprire questa discussione, una sana discussione in merito a chi crediamo di essere, ai valori che vogliamo trasmettere, ai criteri di selezione della classe dirigente, a come affrontare sul territorio le campagne elettorali per le amministrative. Io parlo di una città a Como che fra un anno si misurerà con la scadenza elettorale per il rinnovo delle amministrazioni provinciali e comunali, sarebbe bello cominciare a ragionare in maniera approfondita sul da farsi, cominciare a parlare di nomi, di possibili candidati, di come sceglierli. Noi dobbiamo ringraziare, per quanto riguarda a Como di avere un coordinatore provinciale che tenta in tutti i modi di coinvolgerci, ma ci sono parti d'Italia in cui questo assolutamente non avviene. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare avanti a sentirci dare dei malpancisti, a vederci etichettare come finiani rimasti all'interno del PDL per boicottare? Assolutamente no. Noi quello che dovevamo dire a Fini l'abbiamo detto in tempi non sospetti, io parlo, non rappresento nessuno al di fuori di me, credo di poter interpretare con le mie parole il comune sentire di molte amiche e di molti amici che con me hanno convissuto in quella splendida comunità che era la comunità di azione giovani e di alleanza nazionale, quindi mie coetanei, la classe dirigente di quel movimento giovanile che poi si è proiettata nel partito in quegli anni. Siamo in molti a pensarla così, siamo in molti a pensare che il PDL non sia, a differenza di futuro e libertà, un progetto fallito, tutt'altro, che possa ancora essere e diventare quel grande partito in grado di rappresentare il centrodestra italiano, quindi la maggioranza degli italiani per i prossimi 30-40 anni, è chiaro che a questo partito gli si debba dare una spina dorsale, ma questo anche per, non in funzione anti-berlusconiana, chi dice questo non ha capito assolutamente nulla. Berlusconi ha tali e tanti meriti dal punto di vista storico e politico in questo paese che non sta a me certo elencarli. È altrettanto chiaro però che su certi accadimenti io non do tanto la colpa a Berlusconi, do la colpa a chi gli sta vicino e non ha il coraggio di fargli notare certe cose che poi sono risultate determinanti agli occhi degli elettori. Io incolpo quella classe dirigente, quegli pseudo-amici che anziché consigliarlo in maniera anche delle volte dura, mettendo in risalto quelle che potrebbero essere le criticità legate a determinate sue decisioni, no, continuano ad assecondarlo e questo non va bene, non va bene perché è una persona della sua caratura che deve prendere tali e tante decisioni nell'arco della giornata, va da sé che anzi Berlusconi ha sbagliato anche troppo poco se vogliamo rispetto alla media, grazie a Dio è buon per noi. È chiaro che bisogna però pensare che questo partito dovrà avere un futuro anche oltre Berlusconi a cui auguriamo di campare altri mille anni su questi livelli, però noi abbiamo il dovere anche di andare, questo non lo dice nessuno, non soltanto oltre Berlusconi che comunque è il nostro leader carismatico, ma anche oltre questa classe dirigente che ormai amministra il centro-destra da circa 30 anni, per cui è giusto aprire una discussione costruttiva, una discussione costruttiva che non deve apparire a nessuno come una notte dei lunghi coltelli e qualcosa contro qualcuno, assolutamente, noi stiamo tutti sulla stessa barca, vorremmo remare tutti dalla stessa parte, vogliamo però allo stesso tempo dire guardate, gli italiani ci hanno dato un bel segnale con queste elezioni amministrative, un po' come la persona che scopre di essere cardiopatica con un piccolo infartuccio, ci è andata bene, non abbiamo preso subito l'infarto quello grosso che avrebbe rischiato di ammazzarci. È stato un campanello d'allarme che adesso ci deve costringere, se siamo davvero intelligenti e davvero in buona fede, di andare dal medico, di farci un bel check up e poi di affrontare tutte le cure del caso, non solo perché non ne abbiamo bisogno, non solo perché il PDL ha bisogno, ma perché l'Italia ha bisogno del PDL e di un partito che sia davvero in grado di rappresentare le istanze degli italiani al di là di quelle che possono essere le divisioni interne che onestamente hanno rotto le palle a tutti. Grazie, ciao. Grazie. Grazie. Grazie.